Matteo Renzi Noi baricentro della politica, ha detto il Premier, dobbiamo fare le riforme per ricostruire la democrazia attaccata Un appoggio condizionato alle proposte di Renzi arriva dal nuovo centrodestra Riforma elettorale in tempi certi e brevi, elezione diretta del Premier, i punti su cui si può trovare un accordo Ma, sottolinea il Ministro Lupi, a condizione che il governo duri fino al 2015 Al Congresso della Lega Salvini torna a parlare di Europa Occupiamo Bruxelles per rifondarla Mario Draghi torna a difendere la moneta unica e definisce follia populista l'idea di uscire dall'euro Intanto il governo prepara gli emendamenti alla legge di stabilità Primo obiettivo è la riduzione del cuneo fiscale attraverso le risorse della spending review e della lotta all'evasione 5.000 persone hanno dato l'addio a Nelson Mandela nei funerali che si sono celebrati questa mattina a Kuno Il paese in cui Madiba era nato 95 anni fa Seppellito alle 12 esatte perché è una figura della sua importanza Merita di essere consegnata al riposo definitivo quando il sole a picco e l'ombra è al minimo Il presidente Zoom ha fischiato promette raccoglieremo la tua eredità Finisce in tragedia un furto avvenuto in un'abitazione di Sergio e nel Bresciano Un uomo di 29 anni avvertito dai vicini torna a casa, insegue i ladri armato di fucile E dopo due ore riesce a rintracciarli Nella colluttazione parte un colpo che non lascia scampo a un albanese di 26 anni Dopo l'eliminazione dalla Champions, Juventus e Napoli provano a ritrovare il sorriso in campionato Conte sprona i suoi, con il sassuolo dobbiamo ripartire subito Al San Paolo sfida incrociata tra gli ex Benitez e Mazzarri Dobbiamo vincere per staccare l'Inter, dice il tecnico spagnolo Domani sera Mila a Roma con Totti a rientro dopo l'infortunio Dunque una buona giornata e una buona domenica dal telegiornale della Sette Lo ricorderete una settimana fa era la domenica delle primarie del Partito Democratico In serata si aveva già la sensazione del plebiscito per Matteo Renzi A lui ha affidato l'incarico di far ripartire il governo dell'Argentese Ma soprattutto rifondare il Partito Democratico Quel cambio di passo che in qualche modo si è avvertito anche nelle mosse di Enrico Letta E in qualche modo oggi si è avvertito anche nell'intervento Nell'appuntamento importante di Milano Quello del nuovo corso, assemblea con Renzi nuovo segretario Cupero nuovo presidente E l'ultima occasione, ha detto Renzi, che gli italiani ci danno Giudico il risultato del PD come questo L'ultimo appello perché l'Italia recuperi una fiducia nella politica E restituisca dignità all'impegno politico È l'ultima occasione che noi abbiamo Matteo Renzi parte all'attacco e impone la sua roadmap Lo fa dal palco della prima assemblea che inaugura la sua era a Milano Subito dopo l'incoronazione ufficiale alla guida del partito Due i compiti che Renzi affida al nuovo gruppo dirigente Imporre una visione per i prossimi 15 anni all'Italia E l'agenda di governo per il prossimo anno Ribadisce che il PD rappresenta la stragrande maggioranza che sostiene il governo E proprio per questo deve assumersi una responsabilità doppia Il primo banco di prova saranno le europee Se ci si arriva con risultati balbettanti Dice la responsabilità non cadrà su Grillo, Berlusconi Ma interamente sul PD L'Italia ce la può fare, dice Ma deve tornare a crescere attraverso il lavoro, il mercato, la cultura, la scuola Nel programma di governo Renzi inserisce la modifica Della Bossi Fini e le unioni civili La parte più politica sull'abolizione dei rimborsi E sulla riforma elettorale Temi che unisce nella sfida Grillo Sei disponibile, hashtag Beppe firma qui A cambiare da domani mattina E a smettere di stare sul tetto del Parlamento E andare a votare in Parlamento E a cambiare le cose per le quali sei stato eletto Sei disponibile, se si il PD è davanti a te, non è dietro Noi il PD lo mettiamo davanti E non abbiamo paura Se su questo ci stai Si fa Se su questo non ci stai Sei per l'ennesima volta un chiacchierone Se non ci stai L'espressione buffone vale per te Te lo dice il tuo amico Renzi E dunque nell'intervento di Matteo Renzi L'affondo più duro è stato quello proprio nei confronti di Beppe Grillo Lui si rivolge come d'altronde aveva fatto in questa settimana Anche Enrico Letta, lo ricorderete, in Parlamento Non si rivolge a Silvio Berlusconi Ha detto Matteo Renzi Noi la pace la dobbiamo fare con gli italiani Non con il Cavaliere Eppure il Cavaliere proprio a Renzi Guarda per far saltare le larghe intese E possibilmente andare al vuoto E in questo senso lo scenario che si prospette E' uno scenario in cui anche il nuovo centrodestra Vuole garanzie E sul fatto che le larghe intese reggano ancora Il nostro governo ha appena ricevuto la fiducia Le elezioni ci saranno nel 2015 E chi pensa il contrario dovrà arrendersi Dopo Alfano, dopo Casini, dopo Schifani E ora il ministro Lupi a lanciare messaggi Un'intervista a Repubblica A nascondere dietro la sicurezza Anche un certo timore Che per il nuovo centrodestra Ha un nome e un cognome Elezioni anticipate Il destinatario si chiama Renzi Considerato al momento Il pericolo numero uno delle ex larghe intese E col quale sembra già avviata Una guerra di posizione Che potrebbe anche costringere Letta A continuare a fare catenaccio Il cuore oscuro resta quello della legge elettorale Dopo il pensionamento della commissione Dei 40 saggi Voluta da Napolitano E capitanata da Quagliariello Chiesto da Renzi E di fatto sacrificata Come zavorra ingombrante Per la tenuta del governo Ora la missione è quella del riaggancio Riagganciare cioè la legge elettorale Volata infine dal Senato alla Camera Ciò che è valso a Giacchetti Il primo omogeneizzato Dopo due mesi di digiuno Con la riforma del bicameralismo Rimasta al Senato Siamo pronti a discutere seriamente Della legge elettorale Sul sindaco d'Italia Dice comunque ancora Lupi Anche subito Ma sono irricevibili Gli ultimatum e i giochi Di chi punta ancora a elezioni nel 2014 Prima ci vuole il patto di governo Tradotto Diamo pure priorità alla legge elettorale Ma che non salta in mente a nessuno Di accelerare poi i tempi per il voto Cosa che invece come si sa Non dispiacerebbe affatto a Berlusconi Arrivato non per nulla Sull'asse del tentato Allineamento con il Movimento 5 Stelle A rispolverare il vecchio Mattarellum E' questo il fronte Che fa più paura ad un Alfano Che perderebbe il suo ruolo strategico Ma prima ancora Letta E con lui Napolitano Sostenitori della stabilità A tutti i costi Un fronte al quale dal nuovo PD Continuano ad arrivare aperture Da Giacchetti Dallo stesso Renzi Sia pure per ora Come soluzione di riserva Un fronte destinato Secondo Lupi Ad alimentare solo tensioni Nella maggioranza Dunque è chiaro E espresso più riprese Anche dallo stesso Silvio Berlusconi L'obiettivo della rinata Forza Italia Di intercettare il voto Anche di chi ancora non ha deciso Il suo spazio elettorale In questo scenario composito Lo cerca anche la Lega Una Lega ancora una volta Le prese con un nuovo corso Tutto da scrivere Soprattutto l'obiettivo È quello di far dimenticare La stagione degli scandali finanziari Ma anche delle lotte interne Il tutto è affidato a Matteo Salvini E la giornata è quella di oggi A Torino anche per i carrocci È il giorno dell'altro Matteo Salvini L'europarlamentare Che vuole smontare l'Europa Che ha vinto le primarie E si appresta a guidare la Lega Per i prossimi anni Il congresso del rilancio Che ha per slogan L'indipendenza è futuro Un segnale preciso Che sta a indicare Che ci sarà un cambio di rotta Un ritorno alle idee indipendentiste Battagliera di un tempo In questo senso Vanno inquadrate le presenze Qui a Torino Di 15 movimenti europei Che hanno posizioni diverse Tra di loro Ma sono uniti Da alcuni obiettivi Il principale È quello di essere contro La moneta unica L'euro Partite e movimenti Anti-europeisti Che nel loro paese Raggiungono anche Il 22% dei consensi Come rappresentante Di Russia Unita Fondata da Putin Anche altri leaders Hanno affermato Che ci sono molti punti Nel loro programma Che coincidono Con quelli della Lega I valori nazionali La politica Sull'immigrazione La centralità Dell'identità cristiana E su cui È necessario Trovare un accordo Prima possibile L'Europa Sta andando verso Uno stato centrale Che non vogliamo Ha detto il presidente Del partito unito Della libertà austriaco Fondato da Haider D'accordo con lui Il neosegretario Della Lega Matteo Salvini Da oggi parte Un futuro Che è possibile Che è sempre più forte E più i servi di Bruxelles Hanno paura E usano parole A vanvera Più vuol dire Che siamo nel giusto E quindi vuol dire Che La moneta I trasporti La difesa L'immigrazione L'economia Sono scelte Che ogni popolo Deve poter prendere In casa sua Tutte a Torino Per lanciare il cartello No Euro Che è stato finora Uno dei temi principali Di battuti Nei primi interventi Dei delegati Di fronte comune Parla anche Lo sconfitto Bossi Che è il primo De Big A prendere la parola Perché avverte L'uscita dall'euro Non sarebbe pacifica E darebbe potere Al centralismo romano Mentre quello che conta È la sovranità Della Padania Il dimissionario Maroni Gli risponde Sarà dura Ma a noi le battaglie Non fanno paura E poi Salvini Che lancia il suo programma Ma sferra un duro attacco Ai giornalisti Anche a difesa Delle accuse Uscite dalle inchieste La battaglia Della Lega Anti-euro Va Naturalmente In contrasto Con quella Che è la linea Di politica economica Chiaramente Dettata da Letta Anche nel suo discorso Per riavere La fiducia Con la nuova maggioranza Arrivano le risposte Devono arrivare Da parte dell'esecutivo Arrivano anche Da quella legge Di stabilità Contestata Ieri fortemente Dai tre leader E sindacali Quello shock economico Che non si è ancora visto E dunque In questo senso I miglioramenti Arrivano dagli emendamenti In una domenica di lavoro Perché poi ci sarà Un'analisi notturna Dell'intero pacchetto In commissione Si torna a parlare Di vecchi temi Il bonus bebé Anche la questione Delle spiagge Ma anche la nuovissima E discussa web tax Il tutto sotto l'occhio Anche dell'Europa Che non ci molla Così come Il numero uno Draghi Non molla Il pressing Sui temi Di integrazione europea Il difensore Numero uno Dell'euro E dell'eurozona Torna a far sentire La sua voce Alla vigilia Di una settimana Determinante Sul fronte Della definizione Dell'unione bancaria E di una più stretta Integrazione europea Tra euro Gruppo Ecofin E vertice Dei capi di stato E di governo E Mario Draghi Sceglie il francese Le journal du dimanche Per lanciare L'ennesima bordata Contro chi vorrebbe Dire addio Alla moneta unica La tesi populista Che consiste nel pensare Che uscendo dall'euro Un'economia nazionale Beneficerebbe all'istante Di una svalutazione Competitiva Come ai vecchi tempi Non sta in piedi Dice il presidente Della banca centrale europea Che aggiunge Sta a noi Spiegare che l'euro È la moneta del futuro La strada Verso la prosperità Passa sempre Attraverso le riforme Già quelle riforme Che la Germania Ha fatto E che l'hanno resa L'esempio da seguire Per tutti i paesi europei Che anche grazie Alla politica monetaria Di Francoforte Ora stanno uscendo Dalla crisi Per quanto La strada Verso un futuro migliore Sia ancora impervia Soprattutto Sul fronte Della disoccupazione Ancora molto Troppo alta Un problema Particolarmente sentito Nel nostro paese Dove E notizia di ieri Oltre un quarto Degli under 35 Non studia nel lavora Anche per questo Ieri sono scesi in piazza I sindacati Per protestare Contro la legge di stabilità In fase di approvazione Alla Camera Chiedendo più lavoro E meno tasse E un primo frutto Della mobilitazione Arrivato proprio ieri Era nell'area da tempo Ma il governo In tarda serata Ha presentato L'emendamento Che istituisce Il fondo Per la riduzione Del cuneo fiscale Nel quale Confluiranno Le risorse provenienti Dalla spending review E dalla lotta all'evasione Notizie un po' meno negative Anche per chi percepisce Pensioni tra i 1.500 E i 2.000 euro mensili Se le vedrà rivalutate Al 95% E non più al 90% Come inizialmente Previsto dal Senato E' arrivato poi Finalmente L'atteso emendamento Del governo Sugli stadi Utilizzo Non in via esclusiva Del fondo Di garanzia Per il credito sportivo Per il recupero Di quelli esistenti E per la costruzione Di nuovi impianti Senza però Altri tipi di intervento Come ad esempio L'edificazione Di complessi edilizi Grazie ad un emendamento Del relatore Poi Il termine per il pagamento Della minimu Inizialmente fissato Al 16 gennaio E' stato differito Al 24 Entro le 18 di oggi Sono attesi I sub-emendamenti E la Commissione Bilancio della Camera Riprenderà i lavori Questa sera Alle 23 In vista di una maratona Di un giorno e mezzo Visto che l'approdo Del testo in aula E' previsto Per martedì La solita Corsa contro il tempo E naturalmente Ci sono poi Le risposte da dare Anche alla mobilitazione Di piazza Che di fatto Ci ha accompagnato In questa lunga settimana Protesta dei forconi Ma anche disagi Trasversali E il rischio Di infiltrazioni Che in certi casi Hanno tenuto ostaggio Molte città Una protesta Che ha cambiato In qualche modo Passo E che ha un appuntamento Importante Mercoledì E prossimo Su cui già si discute Un cambio di strategia Mila firme Ma la tensione Ma la tensione aumenta In vista del prossimo Appuntamento A Roma Proprio lì Dove il governo Vive e lavora Il sit-in dei forconi E' previsto Per mercoledì prossimo A piazza del popolo Senza cortei O marce Per evitare L'infiltrazione Di violenti Come ha rassicurato Il leader Mariano Ferro E' arrivato anche Il no del Campidoglio Alle tendopoli Il vice sindaco Luigi Nieri Ha spiegato Che pur nel rispetto Della libertà di espressione Piazza del popolo Non si deve trasformare In una tendopoli Nella capitale Sono giorni di allerta Per le forze dell'ordine Prerisposte Tutte le misure di sicurezza Soprattutto davanti Ai palazzi del potere Il timore E' che la protesta Possa estendersi In realtà E' già accaduto Ieri il blitz Dei forconi E di Casa Pound Insieme nella sede Della rappresentanza Dell'Unione Europea A Roma Un'incursione Culminata Nel tardo pomeriggio Con l'arresto Del vice presidente Di Casa Pound Simone Di Stefano Non bisogna gettare Benzina sul fuoco Ha avvertito Il presidente della Camera Laura Boldrini Mentre i sindacati Parlano di atteggiamenti diversi Ci sono piazze Piene di lavoratori Che dicono cosa vogliono E altre Dove non si capisce Perché protestano È stata anche la settimana In cui Papa Francesco È stato scelto Dalla rivista Time Come uomo dell'anno Molto vicino Anche a queste stanze Di cui abbiamo parlato La sua capacità Di comunicare Anche di raccontarsi Ha scelto le pagine Della stampa Oggi per farlo Il suo primo Natale Da vescovo di Roma Tanti temi Anche scomodi Storicamente Per il Vaticano E un richiamo Alla tenerezza Ribadito Questa mattina Una gioia intima Fatta di meraviglia E di tenerezza Quella che prova Una mamma Quando guarda Il suo bambino Appena nato E sente Che è un dono Di Dio Se la Chiesa Non è solo Il rifugio Di chi soffre Delle persone tristi E il Vangelo È la buona novella Portata da Cristo Agli uomini Francesco Nella terza domenica D'avvento Detta la domenica Della gioia Ricordato nell'Angelus La felicità profonda Del significato simbolico Del Natale Maria E ogni madre Che riceve Il dono divino Di una nuova vita Come da tradizione Da Piazza San Pietro Il Papa Benedetto oggi Il bambino Gesù Di ogni presepe La Vergine Maria Ha concluso Il Pontefice Ci aiuti ad affrettare Il passo verso Betlemme Per incontrare Gesù Cristo Nato Per la salvezza Di tutti gli uomini E proprio la forte attesa Per il viaggio Che compirà In primavera In Terra Santa Bergoglio Ha dedicato Un passaggio Del lungo dialogo Col vaticanista Della stampa Andrea Tornelli Pubblicato oggi Sul quotidiano Di Torino Il mistero Della sofferenza Degli innocenti La tenerezza E la speranza Che i cristiani Non devono mai Dimenticare Il rapporto Tra la chiesa E la politica Destinate entrambe Solo e soltanto A servire Gli uomini Sono alcuni Tra i temi Affrontati ancora una volta Nel confronto Con il mondo laico Dell'informazione Come già accaduto Di recente Col fondatore Di repubblica Eugenio Scalfari Papa Francesco È tornato Sulla questione Della comunione Ai divorziati Se ne parlerà Nel sinodo Del 2014 E ha chiarito Che la valorizzazione Delle donne Nella chiesa Non significa La loro clericalizzazione Poi ha voluto rispondere Alle accuse Degli ultraconservatori Americani Che per il suo Francescanesimo Lo hanno definito Un marxista L'ideologia marxista È sbagliata Ma nella mia vita Ho conosciuto Tanti marxisti Buoni come persone Per questo Non mi sento Offeso Ha sottolineato Il Papa Che conferma Il suo pensiero Critico Verso i meccanismi Economici Del capitalismo C'era la promessa Che quando il bicchiere Fosse stato pieno Sarebbe trasbordato E i poveri Ne avrebbero beneficiato Accade invece Osserva Francesco Che quando è colmo Il bicchiere Magicamente Si ingrandisce E per i poveri Non esce mai niente Raccolto folle Simili Ma anche l'attenzione Dei grandi del mondo L'ultimo saluto A Nelson Mandela Una settimana Di celebrazione Di commemorazioni Tanti ricordi Per un personaggio Che ha scritto La storia Di quel paese Che in quel paese Adesso Ha finito Il suo lungo cammino Proprio nel suo paese d'origine Oggi celebriamo L'incarnazione vivente Che è stato Nelson Rolilala Mandela Un uomo Che ha dato La sua vita Per la causa Della giustizia E della libertà È l'ultimo addio Al padre del Sudafrica Da parte del suo Sudafrica Il viaggio di Nelson Mandela Infatti si è concluso Qui a Kuno In quel villaggio rurale Dome Madiba è cresciuto E dove aveva chiesto Di essere sepolto 200 anime Sperdute nel sud-est Del paese Che lui stesso Nella sua biografia Long Walk to Freedom Ricorda come il posto In cui ha passato I momenti più felici Della sua infanzia A salutarlo Prima attraverso L'inno religioso In lingua axosa L'etnia A cui Mandela apparteneva E poi Con l'inno sudafricano Ci sono tutti ancora una volta Le mogli I politici Gli amici più cari Naturalmente Desmond Tutu Il suo grande compagno di lotta Che in un primo momento Sembrava non dovesse partecipare Per le polemiche politiche Scoppiate e poi risolte Con l'African National Congress Ma anche migliaia di persone Che hanno voluto seguire Fino all'ultimo Il viaggio dell'uomo Che in una sola vita È riuscito nell'impresa Di cambiare se stesso E la storia Il presidente sudafricano Zuma Di nuovo fischiato All'inizio del suo intervento Come era già successo A Johannesburg Lo ricorda Invitando tutti A far vivere L'eredità di Mandela Affinché il Sudafrica Continui a crescere Ma sono le parole Di Ahmed Katrada 84 anni Uno dei vecchi compagni Di Nelson Mandela Nella lotta contro l'apartheid E nella detenzione Robben Island Che toccano il cuore Di chi ascolta Quando definisce Mandela Il suo fratello maggiore Il suo mentor Il suo leader Oggi Anche se sopraffatti Dal dolore Siamo orgogliosi Di come uno di noi Durante la sua vita E ora Nella sua morte Dice Si è riuscita a unire Il popolo del Sudafrica E il mondo intero Con una scala di valori Mai sperimentata Nella storia Poi dopo le esequie La cerimonia più intima L'inumazione Quella riservata Solo ai familiari E agli amici più stretti Celebrata Come vuole la tradizione Con il sacrificio di un bue Alle 12 in punto Perché con il sole a picco Non ci siano ombre A turbare la sepoltura Di Madiba L'unico momento Questo dopo dieci giorni Di lutto nazionale Che è avvenuto lontano Da tutte le telecamere Del mondo Adesso torniamo in Italia Ancora una storia Di cronaca Che riguarda Un tentativo di furto Finito in tragedia Con il proprietario Di un appartamento Che scoperto il ladro L'ha inseguito E l'ha colpito Quanto pare accidentalmente Un colpo di fucile È a terra Morto un ragazzo albanese Di 26 anni È finita così La caccia al ladro Scatenata ieri sera Da un gruppo di abitanti Di Serle Strade strette E villette Con i muri di pietra Sui monti In provincia di Brescia Mirko Franzoni 29 anni Meccanico È accusato di omicidio volontario Ma anche altri Secondi discrezioni Avrebbero partecipato Alla caccia armata Scatenata da un piccolo furto I ladri Due uomini Stando le testimonianze Sono entrati Nella villetta Di Ennio Franzoni Che con il fratello Mirko Fa il meccanico L'officina È sul reto della casa Al momento del furto Alle sei e mezza Circa del pomeriggio La casa è vuota A dare l'allarme Una vicina Nessuno però Chiama la polizia O i carabinieri Gli stessi vicini Adesso Preferiscono parlare Lontano dalle videocamere Mia moglie Era qua alla finestra Ha visto la finestra là Uno che entrava così Entrava C'era buio Buio Era come sei e mezza E il padre è partito subito A cercare A cercare I ladri Tutti Anche quelli da sopra Sono di qua Sono di là Perché Cavolo Tutte le sere Tutte le sere Quindi erano in tanti A cercare questi ladri Un po' sì Perché sono andati su di là Di qua non sono andati Le voci si diffondono Il paese si anima di grida Al ladro Alcuni si chiudono in casa Ma altri scendono in strada Perché è l'ennesimo furto Da queste parti E gli abitanti di Serle Si sentono minacciati Tornano a casa i fratelli Franzoni E insieme al padre Cominciano la caccia Stando alla ricostruzione Dei carabinieri Che indagano sul caso Corrono a prendere Il fucile di Mirko Con l'arma Si aggirano per le strade In cerca del ladro La caccia va avanti due ore E nessuno ancora Chiama le forze dell'ordine Poi In questo vicolo A 200 metri Dalla villa del fratello Mirko Con il fucile in spalla Non è chiaro Se da solo o in compagnia Incontra il ragazzo albanese Fra i due C'è una colluttazione Così hanno riferito I testimoni ai carabinieri Alle otto e mezza di sera Il colpo di fucile La vittima Colpita sotto la scella sinistra Non raggiunge viva l'ospedale Sarebbe effettivamente il ladro Sul luogo i carabinieri Hanno trovato la rifurtiva Alcuni gioielli Della figlia di Ennio Franzoni Di scarso valore Andiamo al calcio Il campionato di calcio Alla sedicesima giornata Una giornata importante Già vissuta negli anticipo Col pareggio del Catania Ma soprattutto Molti occhi Sono puntati sulla Juventus Innanzitutto Quelli dei tifosi juventini Che si devono riprendere Dall'eliminazione in Champions Lo faranno Allo Juventus Stadium Dove la Juve Sempre vinto E affronta I non irresistibili A sentire la classifica a Sassuolo Poi ci sono Tutte le altre partite E la Roma che chiude Domani sera contro Milano Pensare al presente Dimenticare il recente passato E la bruciante eliminazione Dalla Champions League Del calcio mercato Della partecipazione All'Europa League Con una finale in programma Torino Ci sarà tempo E modo per parlarne Antonio Conte Vuole vivere il presente Un presente Che propone Un sassuolo da battere Per proseguire Nel cammino Da regina del calcio italiano Concetti chiari Che conterà forza Con una vena sarcastica Nei confronti Di chi considera Un fallimento L'uscita Dalla Champions League Effettivamente L'avevo messo Come obiettivo Principale nostro Quest'anno La vittoria Della Champions League Effettivamente Se ben ricordo Dovevo vincere La Champions League Poi in ordine Lo Scudetto Poi la Coppa Italia Avendo già vinto La Supercoppa Effettivamente Avevo parlato Di triplete Questa sera Le 18.30 Di fronte ai bianconeri Ci sarà quella Sassuolo Che è già riuscito A fermare in trasferta Sia la Roma Che il Napoli La Juve Circa l'ottava vittoria Consecutiva In campionato Tevez e il Llorente Sarà ancora una volta La coppia d'attacco Posticipo Dal sapor di Champions Quello tra Napoli e Inter Una sfida Che mette di fronte Due allenatori Che hanno guidato Entrambe le squadre Per il Napoli La voglia di rilanciarsi Dopo la brillante Ma sfortunata prestazione Contro l'Arsenal Un eventuale risultato positivo Dei partenopei Potrebbe allontanare In modo forse definitivo I nero-azzuri Della lotta Per un posto In Champions League Chi si potrebbe avvantaggiare Da questo scontro diretto È la Fiorentina Ad un solo punto Dall'Inter Impegnata Questo pomeriggio Con il Bologna Rischia la panchina Pektovic Qualora la sua Lazio Non dovesse vincere Contro il Livorno Ma la classifica Avrà il suo volto definitivo Soltanto domani sera Dopo la sfida di San Siro Tra Milano e Roma I rossoneri Galvanizzati Dalla qualificazione Agli ottavi di finale Di Champions Rinfrancati Dalla visita Di Berlusconi A Milanello In compagnia Di Adriano Galliani Ma il Milan Dovrà superare Una Roma Tornata al successo Contro la Fiorentina Senza Pjanic Squalificato Ma con Francesco Totti Pronto a riappropriarsi Del proprio ruolo Di capitano E trascinatore Della squadra di Garcia Con questo ci fermiamo C'è la pubblicità Torniamo tra poco Con gli aggiornamenti Dunque di noi insieme Col telegiornale Della 7 Siamo in chiusura Vi ricordo come sempre Tutti gli aggiornamenti Sul nostro sito internet Una mattinata In cui naturalmente Gli occhi anche i nostri Puntati sull'assemblea Del PD a Milano Quella che è eletta Renzi segretario E Cuperlo presidente Poco fa è eletta Alla fine del discorso di Renzi Ha lasciato la sala Non prima di aver parlato E espresso la sua soddisfazione Di fronte ai giornalisti Per il discorso di Renzi Dimostrazione che il PD Può ergersi al motore Del nuovo inizio del governo Poi nei punti Che più hanno soddisfatto Il premier La sfida a Grillo Bene la spinta a far presso Sulle riforme Come d'altronde Aveva richiesto anche In settimana il presidente Della Repubblica Napolitano Benissimo l'impegno Sul semestre dell'Unione Europea Uniti Ha concluso eletta Siamo imbattibili Staremo a vedere E così come Ci auguriamo Starete a vedere Il TG Cronache tra poco Tra gli argomenti Che torneremo a toccare Anche quelli Relativi a due personaggi Che hanno segnato Questa giornata In modo diverso Nelson Mandela E Papa Francesco Grazie Buon prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti.